Per Stelio Maria Martini partito in marzo Attendi ancora che la risposta del calamo non sia consumata parola, ma assemblaggio insostenibile di segni. Così sei nel maggio e nelle rose, dentro il tempo e le cose, dentro il talamo dell'alba riziale, come consorte la natura a cui non basta la pura e semplice parola, ma mentre aspettavi parlassero maggio e le rose, per te in anticipo parlarono mimuse.